Chiediamo questa grazia al Signore per ciascuno di noi, per le nostre famiglie, per il mondo intero, perché ci dia la possibilità davvero di sperimentare nella nostra vita l'unica gioia possibile che avremo la possibilità di far passare oltre i confini di questo mondo, che è la gioia della fraternità, del vivere insieme come fratelli, nella pace, nella giustizia, che ciascuno di noi possa in questo essere profeta a qualunque costo di questa verità che il Signore, nel Vangelo di Matteo, si dice esattamente così, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti, è la sintesi di tutto e mi auguro che ciascuno di noi possa fare davvero tesoro di questa parola.